Oggi sui giornali, in questa rassegna stampa del 18 gennaio, nella zuppa del 18 gennaio, vi faccio vedere una roba che è pazzesca, e cioè che i giornali non sono di sinistra, sono i giornalisti di sinistra. Ed è incredibile come oggi in maniera plastica vediamo quel lato, diciamo, sinistro dei nostri giornalisti che è più forte di loro. Sono ancora figli di quell'Italia, appunto, in cui se non eri di sinistra non eri intelligente. La cosa fondamentale di oggi è che ieri c'è stato un grande bisticcio parlamentare per il voto a Salvini. Voto a Salvini ovviamente non elettorale, voto a Salvini per l'autorizzazione a procedere. Guardate, la cosa è molto semplice, ma molto semplice. In realtà dovevano esprimersi entro 30 giorni dalle carte ricevute al Parlamento perché la Giunta decida se è o no suscettibile di processo il Salvini per la questione della Gregoretti. Chiaro? Però cosa è successo? Si erano tutti messi d'accordo per il 20 gennaio, ma c'è un piccolo problema che il 20 gennaio arriva prima del 26 gennaio e il 26 gennaio è la data delle elezioni dell'Emilia Romagna. La sinistra e i grillini non volevano banalmente, come scrive oggi in un fondo Sallusti, che il processo a Salvini in commissione, anche se ovviamente non è un processo, si facesse in concomitanza con la campagna elettorale. Il punto fondamentale è per quale motivo, mi chiedo io e chiedo a voi, dovrebbero aver paura delle loro azioni. Se sono convinti che Salvini debba essere processato per sequestro di persona? Se sono convinti con le sardine che tutti gli italiani sono contro questo atteggiamento becero e tremendo di Salvini? Perché non portare Salvini come oggetto della loro attenzione? In realtà loro sanno perfettamente che gli italiani stanno su questa vicenda con Salvini, perché è difficile spiegare agli italiani che Salvini deve andare a processo da solo, cosa che invece non è successo quando fu il caso Diciotti. Ed è anche difficile per una certa sinistra far capire che Salvini deve andare a processo per aver tenuto in mare sopra una barca italiana quattro giorni degli immigrati che non stabiliscono di entrare in Italia grazie alle politiche dell'ONG, ma attraverso la scelta del Ministero degli Interni della politica italiana e del governo italiano. Ma questo insomma i politici pensano che gli italiani non gli piaccia e quindi non vogliono farlo e se la sono presa con la Casellati, col Presidente del Senato che ieri ha deciso e ha permesso la decisione che si andasse al voto il 20. E il 20 probabilmente, cioè lunedì quando ci sarà la Quarta Repubblica, manco si andrà al voto, perché questi non voteranno per l'autorizzazione a procedere. Vogliono che si proceda, ma non votano per l'autorizzazione a procedere. Bene, in un mondo normale questa roba qui sarebbe distritto dai giornali come una grande contraddizione della sinistra del Movimento 5 Stelle. Invece nel mondo dei giornali italiani questo è vissuto come Salvini se la vuole, vuole farsi la campagna elettorale. Lui probabilmente a processo non ci sarebbe andato, non vorrebbe andarci. Solo che questi lo vogliono mandare a processo ma che non si veda condannarlo, eliminarlo dalla scena politica grazie alla Severino, ma senza farlo sapere agli italiani. Insomma, voglio dire, non vi sembra incredibile, ma i giornali italiani, parte pochi, ovviamente questa cosa non la raccontano. La stessa cosa che non raccontano, di tutto il giornale ne fa una breve, la Cassazione ha deciso che era illegittimo l'arresto della carola Rachete. E anche qui, voglio dire, ragazzi, ma vi rendete conto? E perfettamente ieri pensavo che ci fosse una schizofrenia, cioè processo a Salvini e invece illegittimo l'arresto della Rachete. In realtà non c'è nessuna schizofrenia, è esattamente la stessa filologico. Se Salvini è un sequestratore è del tutto evidente che la Rachete che vuol portare gli immigrati in Italia non è una delinquente, anche se per portare gli immigrati in Italia sperona una nave della Guardia di Finanza. Direi che è perfettamente in linea. Ma la cosa più bella oggi, ve la devo raccontare prima di arrivare al punto fiscale, è due o tre questioni che sono stupende. La prima riguarda le Sardine. Vi leggo un pezzo di Marisio sul Corriere della Sera delle Sardine. Questo nuovo, pagina 10, 15, un taglio basso, non è anche pagina 1, non è un commento. Diciamo che ci saranno le manifestazioni di Sardine, perché le manifestazioni di Sardine se non hanno una copertura mediatica ci si mette a piangere. Bene, i Marisio, questo nuovo movimento che predica un linguaggio pulito, una pulizia digitale e una differente attitudine alla politica. Io dico, ma neanche Gambi avrebbe un giudizio di questo tipo. Il cerchiettino, che è magari più ordinato rispetto ai miei capelli, dice delle cose sulla pulizia digitale che, toc toc, i Marisio, se ti svegli il daspo, per quelli che non la pensano come te e, come dice sul tuo giornale, non su un foglio clandestino il capo delle Sardine, e oggi lo ricorda bene del Vigo sul giornale, e cioè che ci vuole un livello di sostenibilità democratica, così scrive, ma come cazzo parli? Un livello di sostenibilità democratica e che deve vigilare un organo di polizia. Un organo di polizia deve vigilare sul livello di sostenibilità democratica che stabiliscono le Sardine e che ci sia su Facebook e i social. Questi sono matti, sono matti, manco Orwell. Va, dall'altra parte, un altro pezzo straordinario, cioè il fondo di sinistra dei giornalisti è Bey, Francesco Bey. Quanto mi piace la stampa, che è un giornale che io adoro per la sua politica estera? Oggi Francesco Bey ci spiega quella che è stata fatta da Salvini nella manifestazione che ha visto l'ambasciatore di Israele, i suoi rapporti con Etaniano. Ma ragazzi, robetta, robetta, perché la scelta a metà di Salvini, la scelta a metà di Salvini sull'antisemitismo ben diverso e come faceva Fini. Io me lo ricordo come trattavano Fini, quanto il fascista veniva trattato e quanto dovette, come possiamo dire, il traditore, diciamo, di tutti quanti i principi del centrodestra che piaceva alla sinistra e ai giudici dicisinistra proprio perché aveva tradito Berlusconi. E quanto tempo invece li rinfacciavano, una cosa che è più rinfacciabile a Fini di quanto lo sia, caro Bey, ai leghisti, perché Fini deriva da un partito fascista che è erede delle leggi razziali, cosa che fino a prova contraria non mi sembra che sia la situazione di Salvini. Però io capisco, Bey, hai ragione perfettamente tu, mi ricordo perfettamente, insomma, la tua grande pulsione democratica di Bey e laica. L'uomo che dà sempre opinioni, diciamo, a schiena dritta. Bene, e quindi Salvini non ha fatto quello che doveva fare per dimostrare il suo legame, diciamo, ai principi dell'antisemitismo, di contrario all'antisemitismo. Perfetto. Nel frattempo il foglio non fa da meno, ma il foglio che doveva essere il giornale serio. Io mi ricordo Ferrara, quando stavo al foglio, che mi diceva, quando io facevo i miei titoli grossolani, grezzi, poi andai a finire di fatti al giornale, mi diceva, ma sei un cafore, ma come parli, ma cosa dici, ma non si attaccano, basta con questa roba della casta, basta con questa roba, diciamo, delle volgarità, che volgarità, mi diceva. Oggi vedo Marianna Rizzini, la più chic del giornale, che intervista il papà della Borgonzoni, che non vota la Borgonzoni. Ecco, questo secondo voi è una cosa da foglio, quel vecchio giornale di signori che leggono con la pipa il ribelle Kautsky, questo è il foglio, il foglio chic in cui pezzi di Ferrara non si capisce neanche una parola, intervista il padre da Borgonzoni, cioè che è giornalisticamente il rutto, un rutto per dire mia figlia, anche il padre non vota la figlia, ma comunque il foglio è straordinario in questa idea di campagna elettorale, perché in campagna elettorale quelli della sinistra sono sempre delicati, come le sardine, dicono bisogna stare delicati e poi vogliono il daspo su internet. E poi, fantastico, anche qua, non gli va bene neanche al foglio, diciamo, il Salvini filo israeliano. No, non va bene, perché tra le altre bugie sarebbe la sua biura dell'antisemitismo. Tutti qua a dare a Salvini la patente di essere antisemita e non si rendono conto quello che sta succedendo a sinistra, non si rendono conto quello che c'è al Movimento 5 Stelle, non si rendono conto quello che è davvero, dal punto, il cerchio da cui arriva l'antisemitismo in questo paese, che non è certo Salvini, ma la sinistra anti-israeliana. Ma va bene così, ma va bene così. D'altronde, oggi se io leggo i primi titoli di Repubblica, penso che ci sia un allarme fascismo. Sentite qua, i misteri di Budrio tra Igor e destra. Chissà che ci sarà a Bologna, a pochi chilometri da Bologna dove votano tutti Lega. Ascoli la nera dove sventola l'aquila di Salò. Insomma, a leggere Repubblica oggi c'è una specie di giro di parafascisti, leghisti, salviniani, che sono altro che fini, quelli sia antisemiti. Li mettete tutti insieme, no? Questo percorso in cui questo venticello vi fa capire come siano insopportabili. Nel frattempo la Morgese, oggi intervistata la stampa, dice una cosa interessante, cioè di mandare una task force della DIA in Puglia perché lì a Foggia sta succedendo un gran casino. E io vi leggo, vi leggo, io vi prego, vi leggo, anche qua i giornali di sinistra. È straordinario. Fa benissimo la Morgese, d'altronde anche Minniti aveva detto che bisognava mandare qualcuno in Puglia dopo due omicidi. Anche Salvini l'ha detto. Tutti i ministri fanno questa dichiarazione. Ma voi dovete leggere nel pezzo Grignetti. Non ha tempo per Twitter. Sta nel suo studio e lavora mentre la politica si accapiglia. Brava la Morgese. Tu sei un'eroina. Non sei come quegli stronzi che si accapigliano. Tu sei là nel tuo studio. Non come Salvini che twittava. Questo è il non detto di questa straordinaria funzionaria. Avrà un'intervista in più Grignetti nel futuro, certamente. Che altro leggo? Divertente sui giornali. E poi infine c'è il grande capitolo, l'ultimo è quello che sul cuneo fiscale. Lì la situazione è molto semplice. Infatti 16 milioni avranno una riduzione fiscale, debbono essere dipendenti e devono avere più di 8 mila euro di reddito. Perché se hanno meno di 8 mila euro sono i cosiddetti incapienti, cioè non pagano tasse e quindi non gli possono dare un beneficio. Si estende il bonus Renzi che tanto odiavano i grillini, in realtà non fanno altro che fare un altro bonus Renzi, cioè da 80 euro passa a 100 euro. Quelli che criticavano Renzi per gli 80 euro lo aumentano, fanno i 20 euro dei grillini. Arrivano i 20 euro dei grillini, esattamente come nel bonus Renzi allargano un po' la platea da 11 milioni a 16 milioni, ma con un decalage, cioè quelli che hanno 40 mila euro si prenderanno 92 euro di sconto fiscale all'anno. Oggi Roberto Mania sul Repubblica dice un governo debole fa provvedimenti deboli, divertente invece la teoria di Becchis sul tempo che dice la propaganda elettorale fatta a ridosso delle elezioni. Anche perché obiettivamente questa roba qui entrerà a luglio nelle tasche degli italiani, ma ovviamente era necessario dirlo prima delle elezioni emiliane per far capire che questo governo lotta contro la povertà. La Castelli nel frattempo, che è sì spottuta dal foglio in cui c'è la rubrica di Padoan, questo lo dice lei, oggi sul foglio c'è questo lo dice lei, la Castelli viene intervistata, il foglio che ce l'ha con Salvini, si dimentica sempre che poi la Castelli è viceministro dell'economia e che ci dice nessun problema con Gualtieri, quando si lavora con il cuore le soluzioni si trovano. Fantastico, fantastico, lavoriamo tutti con il cuore, nel frattempo dice che magari ci sarà un assegno per gli incapienti e magari sarà due volte Natale, diceva qualcuno che oggi dovrebbe andare a votare il 26. Direi che per il momento è tutto, vi do appuntamento al sito nicolaforro.it e vi dico e vi conforto, se non volete un giornalista di sinistra sapete che la zuppa è per voi. Ciao!